Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del Tg6. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando che prevede l'acquisizione al patrimonio pubblico di immobili di proprietà privata che saranno messi a disposizione dei proprietari di abitazioni soprattutto del terramano colpite dal sisma del centro Italia. Il bando è stato presentato dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Sentiamo Paolo Renzetti. Noi abbiamo circa 350 famiglie sfollate a causa del terremoto, dei tre terremoti del 2016 e del 2017. Abbiamo numeri crescenti a Teramo città per cui possiamo parlare di 550 realtà familiari. A queste realtà familiari la soluzione potrebbe essere o quella delle soluzioni di emergenza abitativa che comunque richiede una procedura, un costo amministrativo, un costo di suolo circa il consumo del suolo e magari dopo un costo di gestione successiva e magari anche un costo di smaltimento successivo. L'alternativa che abbiamo concepito come presidenti di regione con Errani e Palazzo Chigi è di fare in modo di evitare il più possibile le casette e di riusare le case oggi in esistenza che non sono in esercizio di proprietà o delle famiglie o di imprese che hanno già realizzato nel corso degli anni precedenti queste realtà abitative all'interno delle quali possono trovare ricovero le famiglie sfollate. È una maniera per non consumare il suolo, per essere rapidi, per non mettere in pratica nuove procedure realizzative, come sarebbe nel caso delle casette, e poi di acquisire al patrimonio pubblico, durevole, stanziale, queste case che vengono acquisite e che vanno nel patrimonio consolidato di Ater anche per bisogni lontani futuri di ulteriore ricovero abitativo per esempio per i bisognosi. È una misura lodevole che pone in campo a favore dell'Abruzzo per i 23 comuni terremotati 500-550 possibilità di rimettere in circuito case già esistenti ma non in uso. E poi vale circa 50-55 milioni di euro. Io sono molto contento di questa possibilità che ci è fornita dalla legge, che ci è garantita da una nostra delibera, da un nostro bando, e come si sceglie quale casa verrà offerta a seguito di bando? Attraverso una comparazione con i costi delle singole unità. Ci sarà una comparazione che predilige il costo più basso, naturalmente a parità di certezza di idoneità del titolo giuridico edificatorio, cioè le case devono essere legittime. E poi ci sarà anche una stima che verrà anche affidata all'Agenzia delle Entrate e da ultimo un ultimo controllo speditivo del Dipartimento della Protezione Cile nazionale. Credo che si tratti proprio della lode. Dopo la misura sulle zone franche, fiscali e contributive, quest'altra misura straordinaria che per quanto mi riguarda parla di lode. Il Movimento 5 Stelle resta critico sul project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Questa mattina in una conferenza stampa il capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi ha spiegato i motivi dei grillini di contrarietà al progetto, spiegando anche che dopo la richiesta del Movimento 5 Stelle c'è un intervento da parte dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, che ha aperto una procedura di vigilanza. Sentiamo. Consigliera Marcozzi, parliamo del project financing, perché avevate chiesto l'intervento dell'ANAC e questo intervento è arrivato, perché è stata aperta una procedura di controllo sull'operato della Regione? Sì, ANAC ha aperto una procedura di vigilanza nei confronti dell'ASL di Chieti e nei confronti della Regione, in merito e grazie alle nostre segnalazioni. ANAC ci ha dato ragione quando dicevamo che ricorrere al project financing per la realizzazione di ospedali poteva essere un pericolo per le casse regionali e solo un vantaggio per il privato. ANAC riconosce fondata questa eccezione e apre un procedimento di vigilanza. Tra l'altro ANAC ci dà ragione anche su un altro aspetto, cioè sul fatto che noi abbiamo sempre chiesto al Presidente D'Alfonso, all'Assessore Paolucci di valutare l'opportunità che l'ASL costruisse il nuovo ospedale autonomamente con un appalto autonomo, dunque facendo ricorso ai fondi per l'edilizia sanitaria nazionali ed eventualmente se ce ne fosse stata la necessità ad un prestito presso Cassa Depositi e Prestiti, cosa che non è mai stata ascoltata dal Presidente D'Alfonso. Oggi ANAC ci dice, con la missiva che ci è arrivata venerdì, che avevamo ragione e che questi aspetti debbono essere valutati con un maggiore approfondimento. Voi nel merito restate contrari al Project Finance? Assolutamente sì, io ci tengo a ribadirlo. Il nostro non è mai stato un no ad un nuovo ospedale o una ristrutturazione dell'esistente, il nostro è un no alla procedura di finanza che grava eccessivamente sui bilanci delle ASL della Regione, quindi sui soldi dei cittadini abruzzesi e avvantaggia solo il privato. Ed ora una notizia di cronaca giudiziaria. Tutti prosciolti gli imputati del processo Maremonti, tra i quali l'attuale Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, gli imprenditori Carlo Alfonso e Paolo Toto, per intervenuta prescrizione. Restano in piedi gli illeciti amministrativi che chiamano in causa le società e gli enti coinvolti. Il processo avverte essenzialmente sulla mancata realizzazione della strada statale 81 nell'area vestina, la cosiddetta strada Maremonti, sulla perizia di varianti approvata dalla provincia di Pescara, allora preseduta da Luciano D'Alfonso, che secondo l'accusa avrebbe favorito i Toto, permettendo loro la realizzazione della strada senza le necessarie autorizzazioni all'interno della riserva naturale del lago di Penne. L'inchiesta risale al 2008, vedeva l'attuale governatore abruzzese accusato di falso e truffa per fatti riconducibili a suo carico quando era a capo dell'ente provincia tra il 95 e il 99. In base all'impianto accusatorio delineato dal PM Gennaro Varone, l'appalto per la realizzazione della strada Maremonti sarebbe stato stravolto, con l'obiettivo di renderlo vantaggioso per l'impresa Toto Costruzioni. Gli altri imputati, assieme ad Alfonso e agli esponenti della famiglia Toto, erano accusati a vario titolo di corruzione, truffa aggravata, falso ideologico e concussione. Ed erano il progettista della strada Carlo Strassil, il responsabile del procedimento ed ex provveditore alle opere pubbliche della regione toscana Fabio De Santis, il commissario straordinario Valeria Olivieri, il membro del CDA della Toto Costruzioni Cesare Ramadori, il direttore dei lavori Paolo Lalli, il dirigente dell'ANAS Michele Minenna e Angelo Di Ninno, funzionari incaricato della provincia di Pescara, di valutare l'incidenza ambientale della variante. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 30 maggio. Ed ora passiamo alla crisi politica al comune di Teramo, dopo le dimissioni della scorsa settimana il sindaco Brucchi sta elaborando una proposta politica su alcuni specifici argomenti che possano mettere d'accordo anche i dissidenti. Un patto di fine consigliatura che prevede un'aggiunta a 5 assessori con ingresso di tecnici e poche rinconferme rispetto a quella attuale, il servizio di Tania Bonici Castelli. Dopo le dimissioni rassegnate venerdì scorso, il sindaco Brucchi si è preso qualche giorno di riposo in campagna per riflettere e lasciar riflettere soprattutto i dissidenti sulle ripercussioni negative che un commissariamento comporterebbe alla città di Teramo. Ma il tempo stringe, poiché l'ultimo giorno utile per ritirare le dimissioni sarà l'11 maggio e dunque Brucchi presto inizierà una serie di consultazioni per tentare di ricomporre una maggioranza coesa su pochi punti programmatici di fine consigliatura. E veniamo ai numeri. I temi sui quali convergere potrebbero essere tre. Ricostruzione pubblica e privata, realizzazione di poli scolastici antisismici e la necessaria approvazione del bilancio. La nuova aggiunta potrebbe essere formata da 5 assessori o al massimo 6, la metà costituita da tecnici e l'altra da politici e si parla di pochissime riconferme. Una proposta complicata che il sindaco Brucchi dovrà elaborare in questi giorni e che dovrà far digerire a chi in consiglio comunale non lo vota più. La carta della responsabilità da addossare all'opposizione non sembra sia dando buoni risultati. In fondo al litigare per poltrone ed incarichi in questi ultimi due anni è stato il centrodestra Teramano che alla fine è imploso su se stesso. Brucchi promette pubblicamente che non subirà pressioni o ricatti da alcuno in questa fase di ricomposizione, il che fa immaginare difficoltà insormontabili. Se alla fine dei giochi i numeri non dovessero tornare, almeno lui ci avrà provato. In città arriverà il commissario e il sindaco sarà pronto e disponibile ad accettare una candidatura al Parlamento per Forza Italia. Una storia che vede tutti i protagonisti, tranne i cittadini di Teramo. Adesso invece ci spostiamo all'Aquila dove questa mattina è arrivata l'onorevole Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per sostenere la candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra dei Pierluigi Biondi. La Meloni ha anche effettuato un giro nel centro storico dell'Aquila per così osservare da vicino la ricostruzione della città ferita dal terremoto. Vediamo il servizio. Dopo aver rimandato la sua visita per opportunità politica mentre ancora si trovava alla quadra nel centrodestra, oggi è finalmente arrivata all'Aquila Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia per consacrare la candidatura unitaria del centrodestra dell'Aquila su Pierluigi Biondi alle prossime elezioni amministrative. La Meloni ha ricordato l'intervento del governo Berlusconi e la celerità del post-sisma confrontandolo ai ritardi e alle disfunzioni che le popolazioni del centro Italia stanno oggi subendo. Abbiamo trovato l'unità del centrodestra proponendo sostanzialmente il candidato che poi aveva più capacità di aggregare, di aprire e di rappresentare una simbologia che è importante per me, come è importante per la Lega, è importante soprattutto per Berlusconi per il lavoro che ha fatto qui. Pierluigi riusciva ad aprire anche una serie di esperienze civiche, è andato anche oltre i confini del centrodestra tradizionale, era un sindaco di un comune che è stato il comune che ha visto più vittime allora rispetto alla popolazione durante il terremoto, quindi è una candidatura che noi abbiamo proposto che alla fine è risultata quella più convincente, senza nulla togliere agli altri candidati che pur erano degli ottimi candidati. Ma devo dire che in questa tornata siamo stati bravi su tutto il territorio nazionale a trovare delle soluzioni partendo dal territorio, partendo dalla proposta più convincente, senza egoismi di partito che imponessero un candidato sugli altri e così è stato sull'Aquila. Giorgia Meloni ha poi fatto una passeggiata nel centro della città visitando anche lo storico caffè dei fratelli in Urzia. Questo è il servizio di Germana Dorazio, andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo sempre alla pagina politica ma ci spostiamo a Silvi dove è terminata l'esperienza amministrativa del sindaco Comignani con le dimissioni di nove consiglieri, tra cui uno, ed è quello decisivo, del Partito Democratico e si tratta di Arlini. Dunque a Silvi arriverà il commissario prefettizio. Sentiamo l'intervista al capogruppo di Silvi 2024, il gruppo che ha dato vita alle dimissioni. Parliamo di Del Vecchio, intervistato da Paolo Lorenzetti. Siamo con il consigliere del comune di Silvi, Antonio Del Vecchio, a poche ore dalla fine della giunta Comignani a Silvi. Lei è uno dei nove consiglieri che si è dimesso. Ora, Silvi arriverà il commissario. Il perché di queste dimissioni? Il perché di queste dimissioni? Diciamo che noi l'abbiamo fatto anche con molta tristezza perché era un progetto su cui noi avevamo creduto tre anni fa che però durante questi tre anni è cambiato. È cambiato il sindaco, è cambiato il modo di amministrare, sono cambiati i progetti e quindi noi due mesi fa siamo usciti dall'amministrazione, dalla maggioranza e siamo andati in opposizione facendo un'opposizione costruttiva. Si è creata questa occasione nell'arco di due o tre giorni e abbiamo aderito e quindi era giusto che questa amministrazione dopo la nostra uscita non essendo più una maggioranza elettorale che amministrasse il Paese doveva andare a casa. Insomma, noi riteniamo nella logica democratica che se si vota un'alleanza fatta da noi con il PD nel momento in cui si esce non può, secondo noi, dal punto di vista di rispetto degli elettori continuare ad amministrare. Si può parlare di fallimento della giunta Comignani? Secondo me sì, ma soprattutto fallimento nei progetti, nel modo di amministrare. Noi c'eravamo candidati tre anni fa per cambiare il modo di amministrare, il modo di risolvere i problemi, il modo di portare le idee e i progetti coinvolgendo i cittadini, facendo dell'associazionismo, facendo un bilancio partecipato, lavorando sui rifiuti, lavorando su un nuovo progetto di variante urbanistica e ecosostenibile. Non è stato fatto nulla di questo. Solo il primo anno abbiamo amministrato in maniera, credo, diligendolo, l'ho detto anche in altre interviste, poi ci siamo fermati. Abbiamo smesso di amministrare, di progettare la silvia del futuro e ognuno ha pensato un po' un attimino ad accrescere il proprio consenso elettorale e personale. Ora si andrà verso un commissariamento che potrebbe durare un anno, ma anche di più forse? Sì, credo che non si riuscirà a votare per quest'anno, credo che si andrà l'anno prossimo, o primavera, o forse non so se ci sarà l'accorpamento con le politiche, quindi penso un anno, un anno in cui possiamo lavorare e coinvolgere i cittadini in un nuovo progetto politico. A Pianella è stato inaugurato il nuovo palazzo municipale, simbolo della città del Pescarese. Tra l'altro l'intervento andrà a migliorare anche i servizi resi dall'amministrazione ai cittadini. Il servizio di Vestina News. Sono tornate a suonare a Pianella le campane della chiesa di San Domenico in occasione della cerimonia inaugurale del ristrutturato palazzo municipale. Infatti, i lavori appena conclusi hanno fatto sì che anche la torre campanaria tornasse a risplendere dopo decenni di abbandono. Il palazzo del XVI secolo del centro storico di Pianella fu un ex convento di frati domenicani. Un intervento strutturale, ma non solo, visto che sono state riportate alla luce anche opere d'arte come la Vittoria Lata e il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Tanta soddisfazione per il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che potrà contare anche su un'efficace funzione degli uffici. Riportiamo all'antico splendore quello che è l'edificio più importante della nostra collettività. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale nell'ambito dei fondi FSC 2013, cofinanziato dal comune di Pianella, un intervento per 1.100.000 euro che ci ha consentito di migliorare grandemente l'indice di resistenza sismica portandolo da 0,20 a 0,80, ma soprattutto di riportare al suo splendore questo stupendo gioiello architettonico dei secoli scorsi. La funzionalità degli uffici ne beneficerà sicuramente, anche perché innoveremo da lunedì con un front office unico nel quale ci sarà la possibilità per l'utenza di trovare in un unico ambiente tutti i servizi comunali, anche con un sistema di prenotazione elettronico per evitare file di servizi. Implementeremo anche grazie a questo intervento l'apertura degli uffici anche al sabato mattina. Ed ora, come ogni lunedì, un'ampia pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie A, perché questa sera si gioca allo stadio Adriatico Cornacchia, il posticipo del campionato di Serie A fra Pescara e Roma. Pescara che è un passo dalla retrocessione matematica in Serie B, infatti la vittoria dell'Empoli a San Siro, col Milan avvicina il verdetto che si concretizzerà in caso di sconfitta dei biancazzurri nella gara di questa sera. Per l'occasione in campo tornerà Baebec al centro dell'attacco, Bovecoda coppia di centrali di difesa, in mediana Coulibaly è favorito su Verre. Ascoltiamo le parole del tecnico Zeman nella tradizionale conferenza stampa pre-gara. Per me è una partita come l'altra. Una partita che viene dopo la Juventus e praticamente ci sono gli stessi stimoli da parte mia di cercare di fare buona figura. Ma io spero che i giocatori hanno la voglia di dimostrare contro la grande squadra che sanno anche loro qualche cosa. Come affrontarlo non è facile. Ma io spero che ci riesce bene fase difensiva. Io lo conosco, per me è stato il più grande giocatore che ho avuto, che ho visto da vicino. E quindi secondo me se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Io capisco che la situazione di oggi ci può levare la voglia, però lui ama paloma, ama calcio. E quindi se se la sente è giusto che continua se non se la sente. Ma la situazione di oggi è il primo interno generale nel mondo del calcio o il diritto a Roma e alla nuova società? Allora Roma, visto che lui gioca a Naro aspettatevi una partita. Aspettatevi una partita. Io ripeto, io spesso giocavo con tipo 4-5-1 contro queste squadre che poi è il problema di ripartire di mettere in difficoltà la difesa partendo da più lontano. Io lo spero, perché noi in fase offensiva abbiamo fatto poco a parte la prima partita con Genova. Il discorso è che magari con la Juve abbiamo giocato tre paloni dentro l'area dell'avversario e noi ci alleniamo. Io mi sforzo di mandarli dentro l'area ma io c'ho attaccanti che ci piace più costruire che attaccare la porta. Queste le valutazioni di Zeman invece adesso andiamo ad ascoltare le parole di Spalletti, tecnico della Roma. Oltre a Florenzi non è stato convocato Francesco Totti giallorossi in campo con il 4-2-3-1 dietro Zecua giranno Salanna in Golan e uno tra Perotti e El-Sharawi. Giallorossi possono allungare nuovamente sul Napoli e ipotecare il secondo posto ma l'allenatore Spalletti ammonisce i suoi sulle possibili difficoltà della partita di questa sera. Ascoltiamolo. Le insidie sono molte prima di tutto perché non esiste mai una squadra che parte male e finisce malissimo avendo poi sempre gli stessi risultati. Si vedono che ci sono dei momenti dove il grafico cambia notevolmente. Pescara ha diversi ex. Zeman ora ultimamente mi sembra che abbia anche modificato qualcosa del suo modo di fare in queste ultime partite. L'ho vista a meno sbarazzina come squadra tentato di apportare delle modifiche perché ritornano bassi fanno queste vampate di contropiede di ripartenza forte però non sta di là alla metà campo 90 minuti lasciando campo alle spalle della linea difensiva. Ecco, diciamo fra le cose che aveva dato a vedere ha mantenuto un po' il meglio e ha cercato di apportare modifiche a quello che gli creava più difficoltà. Ora scendiamo in Lega Pro non è andato oltre lo 0-0 il Teramo contro la maceratese polemiche per un gol annullato a Speranza per fuorigioco che probabilmente non c'era per il mancato ingresso del Baby Fratangelo ufficialmente per problemi alla schiena. Sono i risultati delle concorrenti a tenere viva la speranza di salvezza diretta dei Biancorossi che passerà ovviamente dalle prossime gare a partire da quella contro il Parma. Allora andiamo a sentire insieme il servizio della partita. Nella sfida tutta a Biancorossa il Teramo fallisce un importante e decisivo match ball per avvicinare la salvezza diretta con i play-out ormai dietro l'angolo all'Elbia Recina la gara fra la maceratese e i Biancorossi termina senza reti con la squadra di Ugolotti che recrimina per un gol annullato a Speranza per un fuorigioco davvero molto dubbio. Si comincia con un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista marchigiano Michele Scarponi scomparso tragicamente ieri in un incidente stradale. La maceratese alle prese con grossi problemi societari presenta la formazione annunciata con il 4-3-1-2 con Colombi Allegretti di punta. Nelle 4-4-2 del Teramo Petrella gioca al posto dell'acciaccato Spighi in avanti spazio alla coppia Barbuti-Sanzovini al secondo Barbuti sul filo del fuorigioco serve al centro per Sanzovini anticipato al momento della conclusione la squadra di Ugolotti si lascia preferire per una maggiore fluidità di gioco e dopo una fase di equilibrio al ventiseiesimo c'è una fiammata del Diavolo con una sassata dai venti metri dell'ex pescarese che mette di pochissimo a lato la gara non regala grandi emozioni con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centro campo nel finale al quarantunesimo sui piedi di Colombi capita la più ghiotta delle occasioni per sbloccare il punteggio con l'attaccante martigiano che va a concludere incredibilmente alto l'ultimo acuto del primo tempo è ancora degli ospiti è sempre ad opera di Sanzovini che prima del limite mira l'angolino mettendo ancora fuori di poco nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara e con l'equilibrio a farla da padrone al settimo si vede la squadra di casa con De Grazia che conclude fra le braccia di Narciso al decimo Ugolotti decide di operare la prima sostituzione mandando in campo Carraro per Petrella al tredicesimo il Teramo trova il vantaggio con un gran gol al volo di Speranza prima convalidato e poi annullato da Bertani di Pisa per un fuorigioco che in molti dalla tribuna non vedono al diciassettesimo Giunti richiama in panchina Colombi mandando in campo Palmieri in gol nella gara vinta all'andata dai marchigiani al Bonolis il match si mantiene bloccato ed equilibrato anche se al ventitresimo e De Grazia ancora ad approfittare di un pallone perso a centrocampo dagli abruzzesi andando poi a concludere di poco a lato al ventisettesimo arriva la risposta del diavolo con Sansovini che in scivolata in aria non riesce a dar forza alla sua conclusione passano due minuti ancora De Grazia fa correre un brivido alla difesa teramana Ugolotti poi getta nella mischia anche Masocco per Di Paolo Antonio con il Teramo che tenta nelle finale il tutto per tutto mancando però in concretezza e al novantunesimo scoppia anche il caso Fratangelo scendiamo ancora di categoria adesso andiamo in serie di senza storie il derby abruzzese di giornata con tre gol nella prima mezz'ora il San Nicolò regola la vastese garantisce il terzo posto e continua ad inseguire la seconda posizione per la squadra di Favo la stagione invece termina qui il servizio di Ania Cantagalli un derby deciso nella prima mezz'ora di gioco finisce tre a uno la sfida del Bonolis tra San Nicolò e vastese con i biancorossi d'Aragona che pagano un approccio alla gara fin troppo gentile entrambe le squadre devono riscattare un KO casalingo nell'ultimo turno di campionato Epifani deve rinunciare ancora a Petronio oltre a Moretti Pretara e Napolano mentre dall'altra parte Favo ha il solo romano indisponibile la vastese ha un approccio da dimenticare perché in meno di mezz'ora il San Nicolò mette in cassaforte il risultato per due volte Traini viene lasciato troppo solo in area nella prima occasione dopo solo tre minuti l'azione si sviluppa dalla sinistra e di Benedetto serve centralmente il compagno di squadra libero di indirizzare di testa alle spalle di Marconato al quarto d'ora è ancora Traini a far male al biancorossi questa volta si passa dalle parti di Massetti per poi finire con la doppietta dell'attaccante Biancazzurro che sigla il 2 a 0 la vastese non c'è ed il San Nicolò riesce a firmare anche il Tris dagli sviluppi di un calcio di punizione Mozzone viene atterrato in area da De Cinque per il direttore di gara e calcio di rigore che trasforma dal dischetto Bisegna i biancorossi provano a reagire d'orgoglio Traini muro un tentativo ravvicinato di Bartoli e qualche minuto dopo Fiore ci prova dalla distanza ma il destro finisce di poco alto Favo prova a riaprire la contesa inserendo un attaccante in più felici e facendo uscire il difensore Bartoli e il San Nicolò però ad andare ancora vicino al gol la capucciata di Traini questa volta però trova Marconato nella ripresa i biancorossi provano a reagire timide proteste al tredicesimo per un contatto tra Galizia e Ciotti con il direttore di gara che lascia proseguire poco dopo Prisco ci prova dalla distanza con il portiere biancazzurro che alza la sfera in angolo con la palla poi che sfiora anche la traversa Galizia al diciassettesimo fa fuori diversi biancazzurri e mette in mezzo un pallone che attraversa praticamente tutta la linea di porta senza che però nessuno riesca a segnare i biancazzurri di casa si limitano poi a controllare una vastese che fa sì possesso palla ma che non riuscirà a creare grossi pericoli dalle patti di Ciotti nel finale invece Chiacchiarelli ottima gara la sua centra in pieno una traversa uno slalom dalla destra di Napolitano regala invece ai biancorossi il gol della bandiera per la vastese è una sconfitta che chiude di fatto le speranze playoff mentre il San Nicolò ha ancora due giornate per cercare di agguantare il secondo posto già salvo il Pineto cede l'intera posta al Monticelli che cerca lo sprint finale per il quinto posto inutile il gol di Pomante per gli Adriatici Roberto Di Sante il Monticelli espugna il Mariani Pavone di Pineto battendo per 3 a 1 la squadra di casa e tenendo così accesa la speranza playoff vince la squadra con le motivazioni maggiori ma in campo è stata partita vera fino al novantesimo nelle fila del Pineto in casacca nera torna Mazzocchetti tra i pali mentre a centrocampo Cacciatore prende il posto dell'infortunato Proietti in avanti parte Palumbo dall'altra parte Stallone recupera in difesa dopo la squalifica il capitano Sosi mentre in avanti il tridente composto da Negro Giovannini e Pedalino dopo un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi l'arbitro Cascone dà il via all'ostilità con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e i primi minuti scivolano via sul filo dell'equilibrio il primo vero sussulto al diciannovesimo quando Pedalino va in gol ma la rete viene annullata per un fuorigioco parso dubbio il Pineto risponde al ventiseiesimo con l'incursione di Cacciatore e la sfera che sfiora il palo passano due minuti e Pedalino dalla parte opposta non riesce ad impensierire Mazzocchetti di testa mentre al trentaquattresimo Marani si fa trovare pronto sulla conclusione dal limite di Mariani ma nel finale proprio quando ci si appresta a rientrare negli spogliatoi sullo 0-0 Iotti vede Mazzocchetti fuori dei pali e si inventa una gran conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle dell'estremo locale in avvio di ripresa il Pineto spinge alla ricerca del pari al settimo un altro episodio da rivedere Cacciatore dal fondo mette in mezzo un insidioso tiro cross serie di batti e ribatti sulla linea con la sfera che poi viene allontanata dalla difesa per il direttore di gara la palla non varca la linea di porta è il preludio al parigi abruzzese che arriva un minuto più tardi con Pomante che di testa insacca sul traversone di Stacchiotti per un gol confezionato dalla difesa fase favorevole ai padroni di casa che al dodicesimo provano anche con Ciarcelluti che se ne va tutto solo sulla sinistra e in diagonale impegna Marani Al quarto d'ora però gli Ascolani si riportano in vantaggio quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Sosi rimette in mezzo dalla sinistra impegnando Mazzocchetti sulla respinta è pronto Giovannini che piazza la sfera all'altezza del secondo palo Ora il Pineto subisce l'agonismo del Monticelli che nel frattempo ha saputo che la Fermana è avanti sulla San Maurese e cerca di chiudere la gara alla mezz'ora Pedalino spreca incredibilmente la palla del possibile 3 a 1 per gli ospiti che rischiano il pari al quarantaquattresimo quando sulla traversone di Logoluso Sacchiotti riesce solo a spiorare ma non ad imprimere la necessaria forza alla sfera per superare Marani e nel finale il Monticelli in contropiede chiude definitivamente i giochi con Negro che servito da Giovannini fissa il risultato sul definitivo 3 a 1 una vittoria che non vale il quinto posto per via della rimonta della San Maurese sulla Fermana nel finale ma che tiene aperta la corsa playoff sconfitta che non pregiudica nulla per il Pineto al quale va dato atto di essersela giocata fino alla fine Nel girone G nulla da fare per l'Avezzano che esce sconfitto ad Arzachena per 2 ad 1 senza gli squalificati Leto e Pollino la squadra di Pino Tortora rende comunque la vita difficile alla capolista che passa in vantaggio alla fine del primo tempo grazie ad un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Tariuk la trasformazione di Branićki la vediamo in questo istante al nono della ripresa i marsicani riescono ad arrivare alla parità grazie ad un autorete del difensore Sbardella che svirgola un rinvio in fila nella propria porta a metà del secondo tempo invece arriva il gol partita lo sigla di testa a Iana su questo risultato l'Arzachene mantiene la vetta con un solo punto di vantaggio sul Monterosi a due giornate dalla fine del campionato domenica prossima ultima gara casalinga stagionale per l'Avezzano che ospiterà il città di Castello ultima notizia invece che riguarda il ciclismo perché saranno 900 i cicloamatori iscritti per un totale di 11 regioni e 26 province rappresentate nella 14esima edizione della Gran Fondo dei Colli Teatini organizzata dalla SD Cantina Tollo in collaborazione con il comitato Axi Ciclismo di Chieti in programma nella giornata di domani martedì 25 con partenze d'arrivo a Tollo in piazza della Liberazione due percorsi agonistici in programma uno di 134 km con 2360 metri di dislivello ed un altro di 90 km con 1480 metri di dislivello che si aggiungono ad un terzo tracciato di 32 km ma riservato soltanto ai cicloturisti saranno 16 i comuni attraversati ben 10 i cogli ad essere percorsi dalla carovana dei ciclisti è tutto per la prima edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.